Ciao ragazzi, benvenuti, stiamo facendo questo video con il Motorola Moto G vediamo un po' come si adatta anche ai cambiamenti luminosi proviamo anche a fare uno zoom, direi che sgrana abbastanza sulle cose più lontane per quanto riguarda invece il resto mi sembra che sia buono poi avrò tempo in modo di rivederlo con calma al PC anche il cambiamento di luci mi sembra essere rispondente abbastanza velocemente quindi questo era il video con il Motorola Moto G, ciao!